Sono stati firmati decreti che salvano la spesa made in Italy, con l'obbligo finalmente di indicare in etichetta dal 1 gennaio 2022 la provenienza dell'ingrediente principale, dal latte ai derivati del pomodoro, dai formaggi ai salumi, fino a riso e pasta. Lo rende noto la Coldiretti dopo l'annuncio del ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli. Questi provvedimenti rappresentano un passo determinante, spiegano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Riva Rossa, delegato confederale, per dare garanzia di origine al made in Piemonte, come riso, latte, salumi e formaggi, ed impedire che vengano spacciati come made in Italy prodotti di bassa qualità. Provenienti dall'estero, che non rispettano i rigidi parametri di qualità di quelli nazionali. L'Italia, che è il leader europeo nella qualità, ha infatti il dovere di fare da prepista nelle politiche alimentari dell'Unione Europea, poiché, in un momento difficile per l'economia, dobbiamo portare sul mercato il valore aggiunto della tracciabilità, con l'obbligo di indicare in etichetta l'origine di tutti gli alimenti. L'etichettatura di origine obbligatoria dei cibi è una battaglia storica della Coldiretti ed è stata introdotta per la prima volta in tutti i paesi dell'Unione Europea nel 2002, dopo l'emergenza mucca pazza, nella carne bovina, per garantire la trasparenza con la rintracciabilità.